Un post Fano dei Cesari di grande soddisfazione sia per voi che per tutti i partecipanti, è stato un momento bello. Le vostre aspettative sono state soddisfatte? Sono state soddisfatte le aspettative ma direi che sono state anche superate, quindi quello che ci aspettavamo siamo andati ben oltre. Avevamo promesso di dare un impulso di novità a questa manifestazione, effettivamente si è percepito nell'aria perché è stato un crescendo dal lunedì con la presentazione, tutte le attività culturali fatte ma poi dal giovedì la città ha visto questa arena che non aveva mai visto, partire dal giovedì e farci una serie di attività è diventata la Gorà, quindi il centro della manifestazione dove venivano tutti gli spettacoli quindi a partire dalla Fano dei Cesarini, dai Ludi Romani dei Giovani, il grande spettacolo della colonia del sabato che parlava del fuoco e poi la grande parata e la corsa delle bighe. Ma a tutto questo che era la vera novità si è aggiunta la ricostruzione, la didattica storica con un domus romana e un macellum che era veramente uno spettacolo per come era stato ricreato proprio addossato alle mura romane con un accampamento greco che entrandoci veramente sembrava di trovarsi in un altro mondo e via via nel corso dei giorni da giovedì fino a domenica con una serie di accampamenti presi, punti di riferimento nella città come i giardini amiani, i giardini leopardi e le ronde di questi ragazzi che arrivavano da fuori che il venerdì erano 150 persone ma che poi sono arrivati via via con la domenica a 350 persone così da cambiare veramente volto alla città. È un risultato per noi inaspettato quindi siamo molto contenti del risultato raggiunto, lo devo dire grazie ad un team che ha fatto un lavoro ottimo, quindi un team organizzativo dei ragazzi che si sono sentiti anche in competizione ognuno di noi voleva fare meglio dell'altro, effettivamente questo ha portato ad una manifestazione che ha dato il meglio di sé, ora dovremmo lavorare veramente per il 2019 per portarla anche ad altri livelli.